Musica Sarebbe scontato dire che siete bravi, che siete stati corretti Effettivamente è un servizio che va oltre Mi è piaciuto il fatto di essermi sentito assistito in questo percorso E' stato riconosciuto il nostro lavoro e l'impegno che abbiamo fatto per lo Stato italiano Irriparabile il danno che ci è stato fatto Perché all'epoca quel poco che adesso ci è stato in parte restituito avrebbe significato molto Complimenti a Consulcesi che è riuscito a condurre a termine un'azione così difficile Musica Siamo veramente orgogliosi di poter in queste occasioni Impressioni, vedere in viso i medici che hanno creduto in noi, che hanno creduto nella nostra determinazione E che sono addivenuti a questi risultati importanti Musica Quando mi è stata offerta questa opportunità sono partito senza pensarci un attimo Musica 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 Musica